martedì 31 gennaio ariete vivere la vita in modo concreto non significa non avere dei sogni nel cassetto da tirare fuori magari proprio nell'occasione più opportuna non prendete troppo sul serio alcune parole proferite in un momento di irritazione siate superiori toro mercurio venere dalla vostra parte sono un ottimo lascia passare che garantisce promettenti risultati nel lavoro e belle esperienze nel privato se siete ancora single preparatevi a incontri intriganti il pianeta dell'amore sta complottando per voi gemelli la forza di volontà per lottare contro i mulini a vento è spesa male dunque è meglio fermarvi e date un'occhiata in giro prima di continuare da una parte vi sentite esclusi e quindi vorreste riscattarvi dall'altra desiderate fuggire a gambe levate cancro possibilità di spostamenti anche brevi non vi metteranno in difficoltà anzi coloreranno le nuove avventure tutto quello che realizzerete voi non dovete far altro che seguire la corrente non tirandovi indietro per nessuna ragione al mondo leone i pianeti consigliano una dose supplementare di discrezione in modo da tenere per voi alcuni segreti diffonderli ai 4 venti non sarebbe saggio potreste constatare che la fiducia nutrita in alcune persone conosciute di recente non era ben riposta vergine bistici e litigi potrebbero essere all'ordine del giorno ma voi saggiamente darete un taglio alle frequentazioni che vi causano tensioni e stress approfittate dell'esperienza per non ricadere negli errori del passato per aprirvi a nuove possibilità bilancia un pizzico di stanchezza la quale reagire con un'alimentazione adeguata ricca di prodotti energetici ma sani come miele e cioccolato ritroverete l'entusiasmo perduto pensando a un incarico importante che probabilmente sarà affidato proprio a voi scorpione grande intesa nella coppia e promettenti speranze per i single che con una venere così maliziosa faranno bene i preparativi ad un incontro ricco di emozioni con mercurio in se stile dall'amico capricorno anche sul fronte professionale tutto procede al meglio saggittario il tempo non vi basta mai a causa della quadratura tra luna e saturno alcune complicazioni ve ne sottrarranno un bel po le stelle consigliano pazienza dovrete pianificare ogni istante per riuscire a rispettare le scadenze nonostante intoppi e ritardi capricorno il mese si conclude in bellezza grazie al sestile lunare con plutone mercurio con la vostra forza di volontà raggiungerete obiettivi che vi siete dati il vostro fascino vi aiuterà ad ottenere successo anche in società dove siete richistissimi acquario fare un bilancio preventivo avrebbe potuto prepararvi alla sorpresa ma alla fine sarete contenti di ciò che avete e di come ve lo siete meritato anche lo stato d'animo con cui vi accingete ad affrontare una questione è fondamentale per la riuscita pesce le circostanze in cui la gelosia la fara padrona non sono poche ma nonostante ciò voi trovate il modo per amare ancora di più la vostra dolce metà empatia dolcezza fascino sono gli ingredienti del cocktail che rende il rapporto di coppia più vivo che mai